Vicenza, immigrato con decreto di espulsione, in una manciata di ore, rapine e compie due furti. Braccato dalle forze dell'ordine, viene intercettato dalla polizia locale. Bloccato, è stato denunciato per rapine impropria e furto. L'uomo, un trentenne marocchino con precedenti, in pieno giorno ha dapprima rapinato un'automobilista in viale Aretenio, lasciandolo a terra dolorante. Inseguito da un vicentino lungo Campomarzo, si è poi intrufolato in un'abitazione rubando chiavi e un cellulare ed infine da un palazzo ha sportato una bicicletta. L'uomo è stato riconosciuto dalle vittime a causa della maglietta strappata a seguito della collutazione con l'automobilista e un video che lo immortala. Brendola, lui è un 45enne di Valliona, ne combina una dietro l'altra. I carabinieri lo notano mentre gira per le vie del paese in automobile e lo fermano in un bar. Così scoprono che poco prima aveva sottratto la macchina alla fidanzata contro la volontà della donna. L'uomo sta girando nonostante la patente revocata. Visto il suo comportamento anomalo, i militari decidono di perquisire la sua casa dove, mentre lui gli rivolge frasi offensive, trovano una pianta di canapa indiana e 2,6 grammi di marijuana. Così finisce tutto con una collezione di denunce. L'uomo dovrà rispondere di furto di autovettura, oltraggio a pubblico ufficiale e produzione di sostanze stupefacenti. Torri di Quartesolo, i carabinieri intervengono per riportare la calma tra condomini in piena lite, quando uno di questi, un 73enne, si scaglia contro la pattuglia dei militari, offendendoli e minacciandoli. L'uomo, che non aveva voluto fornire le proprie generalità, è stato arrestato per oltraggio, violenza e minaccia a resistenza pubblico ufficiale. Espletate le formalità di rito, l'uomo è ora agli arresti domiciliari. L'uomo è ora agli arresti domiciliari.